Per me era quella che mi aveva seguito, che poi pensavo che fosse una così, perché lei si è presentata e mi ha detto Ciao Marisa, ho detto ma chi sei te? Perché c'era del traffico, si erano fermati un po', mi sono vista arrivare questa qui e ho detto ma chi sei? Dice sono l'amica della Teresa, che non so veramente, ho un'amica che si chiama Teresa, ha capito? Ieri invece si è presentata dicendo di essere un'addetta della USL per farle avere un rimborso Sì, per avermi qualcosa, mi faccia vedere il foglio del... che anzi ho detto, fa lei ciao, ho detto beh com'è che sei qua? Perché si era presentata il giorno prima, come le dico, pensavo che fosse proprio addirittura una dottoressa, perché mi ha visitato il piede addirittura È stata furba perché l'hai anche fatto chiudere il cane in cucina, con la scusa che aveva paura Sì, infatti dice me lo chiude in qualche parte perché ho paura E poi mi aveva lasciato aperto il cancellino, là dice ma c'è la mia amica che deve venire E poi a un certo punto mi ha detto scappiamo perché se no l'ufficio chiude Quindi la complice nel frattempo è entrata in casa e ha rovistato dappertutto Infatti mio marito è andato su, c'erano tutte le porte della camera aperte e anche certi sportelli dell'armadio Quando ha capito di essere stata derubata? Ah subito, subito, viene andato via che lui ha detto ma qui c'era i 500 euro Ho detto sono mica niente, allora ho capito subito Infatti ho guardato alla finestra, c'erano i carabinieri Mi ha chiesto se avevo visto due signori e ha detto sì, poi mi hanno preso 500 euro Ci sperava di recuperare i 500 euro e le medaglie? Io sinceramente no Non ci speravo no Grazie 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 Grazie